Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo oggi una maglia che abbiamo già visto in versione fan, trovate qui in altro la recensione. Questa è la prima maglia del Bayern Monaco per la nuova stagione, la 23-24, in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia mi piace, probabilmente più di quella dell'anno scorso. Qui in alto come al solito vedete il costo, beh fate voi le vostre considerazioni. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi che che aspettate? Prima di lasciarvi alle misure vi chiedo di iscrivervi al canale perché questo è l'unico modo che avete per farci crescere e avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player.